Bene, buongiorno a tutti, AOS 2017, un clima di festa, Orlando Scaggiante, il cuoco di Gico Grandi Cucine, ci sta per presentare alcuni piatti in uno show cooking che sarà sicuramente interessante e pieno di sorprese, quindi vediamo un po' come andrà. Buongiorno a tutti, oggi allo stand della Gico presenteremo dei piatti un po' creativi, faremo un cilindro di pastin di salame con un cuore di radicchio di treviso, dopo di che faremo delle sardine saor, tipico piatto veneto della nostra regione, per fare questi piatti abbiamo utilizzato sia il forno, la piastra in induzione, il cuoccipasta, in pratica tutta l'attrezzatura che ci dà a disposizione la Gico.